salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo video vi auguro buona pasqua passate alla bene con i vostri familiari amici morose e quant'altro voglio prendere anche l'occasione per ringraziarvi in futuro ovviamente adesso non ancora per i 18.000 iscritti e quindi vi ringrazio comunque anche adesso se ne mancano un paio vi ringrazio lo stesso e purtroppo ragazzi ultimamente ho avuto veramente pochissimo tempo per il computer ci sono passate addirittura due giorni senza neanche guardarlo tra lavoro impegni vari e quant'altro purtroppo le cose non sono andate proprio sempre come volevo cercherò comunque più possibile di far video a breve dovremo ripartire alla grande anche con la serie in teoria internet si è sistemato almeno da ieri sera per farvi capire oggi siamo il 2 di aprile quindi ora che esce il video si è passato un po' di tempo però purtroppo adesso ho avuto il tempo di farlo poi sono via e quant'altro impegni vari e vabbè quindi tenetevi pronti ho cercato comunque di buttarvi fuori qualcosina ogni tanto anche anche giocando in sp giusto per per continuare a far qualcosa però mi ci volevano per esempio due sere di duro lavoro tra virgolette duro nel senso essendo da soli i tempi si allungano bisogno due sere per fare un video quando in multiplayer in una sera magari riesco a farne anche due due puntate su una sera perciò capite anche voi un attimo come sono preso con i tempi comunque allora vi ringrazio per iscritti vi auguro buona pasqua i tempi stringono sempre di più cercherò comunque di far sempre qualcosina e se no aspettate prima o poi qualche video uscirà niente che dire continuate a seguirmi purtroppo le cose stanno cambiando non è più come una volta andavo a scuola tornavo a casa faccio i compiti e dopo il pomeriggio sono tutto libero adesso lavoro nove ore al giorno più sabato mattina perciò capite che magari alla sera avere quella oretta libera preferisco andarmi a fare un giro che magari mettermi davanti al computer come magari facevo prima ecco va bene ragazzi buone feste godetevi le vacanze di pasqua se ben brevi ma che siano belli intense ma ne è tanta cioccolata proprio tanta 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 e bene ciao a tutti e alla prossima ciao ciao